Dunque si va verso un ampliamento delle vaccinazioni, in particolare delle terze dosi, una platea che si estende anche agli under 50, notizia di poco fa, anche il pronunciamento dell'AIFA per la necessità di una seconda dose per il Johnson & Johnson, il vaccino a somministrazione unica, quando saranno trascorsi sicuramente sei mesi, ma anche meno. Insomma si amplia la necessità di vaccinare per sconfiggere definitivamente la pandemia. Le regioni, le ASL si organizzano, cercano anche la riapertura di spazi che possano consentire una somministrazione più organizzata. Sotto questo aspetto c'è una situazione più volte denunciata di criticità nella ASL di Pescara e noi di questo parliamo in apertura del nostro telegiornale perché abbiamo la possibilità di sentire quali sono le decisioni che verranno prese in queste nelle prossime giornate o forse anche nelle prossime ore. In diretta infatti c'è Anna Di Giorgio con il sindaco di Pescara Carlo Masci e si trovano anche in un punto che potrebbe avere un attinenza con quanto stavo dicendo. Buon pomeriggio Anna. Sì Carmine, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Hai riepilogato un po' il motivo insomma di questo nostro essere venuti qui oggi a Pescara davanti ai locali della stazione ferroviaria di Porta Nuova insieme al sindaco di Pescara Carlo Masci perché c'è in piedi questa possibilità che si fa sempre più concreta di riaprire un hub vaccinale direttamente nel capoluogo adriatico qui a Pescara dopo la dismissione appunto del palafiere Danelli di Via Tirino che è stato un punto di riferimento un po' davvero per tutta la vallata, per tutta l'area metropolitana, per le vaccinazioni insomma che sono andate avanti a tambur battente, palafiere che poi è stato dismesso nel momento in cui più o meno la vaccinazione aveva riguardato già gran parte della popolazione, adesso un nuovo hub vaccinale recentemente aperto appunto è quello di Città Sant'Angelo che però ha presentato alcune criticità prima e fra tutti proprio la questione della logistica insomma, gli ultrasessantenni che sono quelli che adesso sono interessati soprattutto dalla somministrazione della terza dose lamentano la difficoltà insomma di raggiungere questo hub vaccinale che invece qui a Pescara era simbolo anche di una sanità, di una vaccinazione di prossimità che potrebbe ritornare però appunto nei locali della stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova. Lo chiediamo direttamente al Sindaco Masci perché sappiamo che ci sono già stati dei sopralluoghi e quindi si potrà tornare presumibilmente della prossima settimana a vaccinarsi direttamente a Pescara, è così Sindaco? Sì posso confermare questa notizia, dalla settimana prossima si aprirà il centro vaccinale di Pescara qui nella ex stazione di Porta Nuova nei locali di proprietà comunale perché quando abbiamo chiuso il centro vaccinale di Via Tirino abbiamo cominciato da subito a pensare ad una soluzione diversa, io ho chiesto alla ASL che comunque era necessario aprire un centro a Pescara per dare le risposte ai cittadini di Pescara dopo aver fatto 251.261 vaccini nella città di Pescara nel centro vaccinale del Palafiere, proprio per la terza dose era necessario avere un punto di vaccinazione qui a Pescara, l'ASL ovviamente ha cominciato a ragionare rispetto a questa ipotesi, adesso abbiamo trovato la soluzione che era già stata prospettata dal Comune, cioè la ex stazione ferroviaria di Porta Nuova dove ci saranno quattro linee vaccinali, dalla settimana prossima presumibilmente da martedì, mercoledì apriremo, quindi ci sarà la possibilità di prenotarsi nella piattaforma delle poste come quella che è stata utilizzata già in passato, poi rimarrà anche aperto il centro vaccinale di Città Sant'Angelo con altre quattro linee vaccinali, però daremo un servizio in più alla città che necessitava di avere un punto di riferimento per le vaccinazioni, soprattutto per le persone più anziane, quelle che hanno più difficoltà a muoversi con la macchina o con il mezzo pubblico in modo da poter dare una risposta direttamente al centro della città. Quello che mancava appunto che si era detto proprio anche per questioni logistiche per raggiungere l'outlet di Città Sant'Angelo, dove in questo momento tra l'altro abbiamo sentito anche poco fa il referente della campagna vaccinale dell'Asl di Pescara, Carmine Rossano Di Luzio, che ci ha detto che aprire un centro vaccinale qui a Pescara non significherà chiudere il centro vaccinale di Città Sant'Angelo, l'Asl tra l'altro ha in piedi ancora operativi gli hub vaccinali di Scafa e di Penne, quindi quello di Pescara in questo caso si aggiungerà anche a quello di Città Sant'Angelo e si cercherà così di coprire con una vaccinazione di prossimità il più possibile prossimo appunto tutto il territorio della provincia di Pescara. Sindaco, quello che molti si sono chiesti però, visto che il palafiere d'anelli di Via Tirino a Pescara è stato un modello preso anche a livello nazionale della macchina dell'emergenza sanitaria che ha funzionato bene, molti si sono chiesti perché è stato chiuso e perché non continuare lì quindi con questa campagna di vaccinazione? Perché quella era una struttura privata di proprietà del presidente della Confcommercio Danelli, ce l'ha messa a disposizione gratuitamente per tutti questi mesi, però era arrivato il punto di restituire la struttura perché ne aveva necessità e quindi abbiamo dovuto dismettere quel centro. È anche vero che lì sono state fatte circa l'80% delle vaccinazioni dei cittadini di Pescara, nel senso che abbiamo vaccinato oramai quasi tutti i cittadini di Pescara con la prima e con la seconda dose, adesso si parte con la terza dose, occorreva un punto di riferimento su Pescara, è stato individuato questo anche se si era pensato al Palabecci, però anche il Palabecci è disponibile fino a marzo perché poi cominceranno le attività fieristiche e quindi l'Asla ha preferito intanto venire qui. Ricordiamo a tutti che in questo spazio della ex stazione di Porta Nuova sono stati fatti circa 80.000 tamponi, quindi è uno spazio ben collaudato per l'utilizzo sanitario, in questo caso delle vaccinazioni. Sindaco, brevemente a che punto siamo con i contagi a Pescara? Qual è la situazione per quello che lei sa? Io ho sentito nei giorni scorsi, l'altro ieri, il dottor Parruti, ci sentiamo spesso anche se adesso con meno frequenza perché le situazioni sono notevolmente migliorate a Pescara. Nonostante ci sia questa recrudescenza in Abruzzo, Pescara rimane ancora una sorta di isola felice, speriamo che questo continui. Evidentemente le azioni che abbiamo messo in campo nel tempo hanno funzionato e oggi siamo la provincia che ha meno contagi in assoluto anche in termini generali di pandemia. Speriamo di poter continuare così, ci auguriamo tutti che questa pandemia non riparta perché sarebbe veramente una tragedia. Certo il Green Pass, l'attenzione che abbiamo avuto, i vaccini fatti, i tamponi, sicuramente creano una cortina di protezione che speriamo tenga fino alla fine. Grazie allora al sindaco Carlo Masci di Pescara per queste ultime novità qui da Pescara. Carmine, se tu non hai domande da porre al sindaco io ti restituisco la linea. Grazie, grazie Anna. Naturalmente ci ringraziamo il sindaco per averci dato in esclusiva questa notizia proprio riguardante la scelta che è stata fatta e che vi abbiamo comunicato in diretta.